Buongiorno a tutti e benvenuti in Spazio Lenovo. Sono Ivan Paparcura, responsabile dei servizi Lenovo. Budget aziendali, dati sensibili, GPDR, gestione della forza lavoro e mobilità sono priorità per tutte le aziende. Vedremo come tre servizi di Lenovo possono andare a indirizzare queste esigenze dei clienti. Col servizio KPR Drive il cliente potrà gestire in autonomia i dati sensibili presenti nell'hard disk ASTO, secondo le sue polisi aziendali e quindi non dovrà restituire l'hard disk in caso di problematica a Lenovo. Solitamente le parti CRU vengono spedite in modo tale che i riparti IT le possano sostituire in modo autonomo. Per tutte quelle situazioni dove non è presente il reparto IT o dove la forza lavora in mobilità, Lenovo ha studiato un servizio che permette di ricevere on-site sempre un tecnico per la sostituzione di tutte le parti hardware danneggiate in modo tale che la produttività dei clienti e degli utenti sia ripristinata nel più breve tempo possibile, sgravando i reparti IT da tutte quelle operazioni di routine legate al supporto. Come standard di mercato la garanzia sulle batterie è di un anno. In Lenovo c'è la possibilità di estendere la garanzia sulla batteria fino al terzo anno di vita, andando così a proteggere ed evitare costi non previsti sul budget aziendale. Ringraziandovi ancora, vi auguro buona giornata da SpazioLenovo.